Parliamo tutto l'inglese, non sappiamo nulla dell'italiano. Posso parlare un po' poco. Se vuoi parlare un italiano, posso parlare un po' poco. Posso parlare un po' poco. Quindi parli un buon italiano, Matt? No, non è vero. Ti piace l'italiano? Non è vero, sì. Ovviamente. Bellissimo. Quindi questo è come... Bellissimo. Questo è come l'Italiano Oscar. Quindi sai questo award? Si. È un award molto importante. È il primo prize. E con la storia dell'italiano cinema... È una storia grande. Hai visto alcuni amici? Molti amici? Ho visto alcuni amici. Ma non ho avuto molto tempo per chiedere. Sì, sì. La prima volta per me qua. Vuoi vincere? Vuoi vincere? Vuoi vincere? Vuoi vincere? Non credo. Questo è per altre persone. Io sono solo qui per supportare. Io sono qui per supportare. Ok. Grazie mille.